ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio in esterna siamo qua perché siamo a via reggio andiamo a trovare l'amico giacomo che è il titolare della gioielleria pasquale domenici che parte dell'ufficiale del canale e quindi andiamo a vedere le novità del mese e tra le novità ci sono anche un paio di marchi nuovi un paio di marchi nuovi che sono interessanti vero piero perché c'è l'amico piero qua che ci è venuto a trovare anche lui eccolo qua è vestito come i cos'è cronometro ogni volta che mi tratti male siamo a cinque secondi non mi ha ancora trattato male no sei vestito come i turisti tedeschi ecco nove secondi turisti tedeschi va bene che non gioia al polso aspetta che non funziona maurice lacroix faccelo vedere al icon icon urban tribe come si pronuncia urban tribe bravo la siciliana e invece io c'ho qua il bellissimo mido ocean star gmt è già un po che lo indossi questo eh si è già un pochino perché un orologio simpatico che mi piace per l'estate poi c'è il secondo fusorario a me mi serve secondo fusorario sì per sapere in sicilia a palermo a proposito quali sono i marchi nuovi che andiamo a vedere allora seico no i marchi nuovi citizen citizen finalmente ci sono i citizen nuovo marchio negozio così possiamo mettere le banni su quei modelli un pochino diciamo più costosi no perché quelli economici li abbiamo fatti tutti le recessioni brava e poi c'è un marchio francese a se si come si chiama come si chiama è un casino perché non è che mi viene tanto bene perché si deve dire in francese le club bubbel una roba del genere bubbel bubbel dopo vediamo bene bubbel bubbel non è tipo come che era quello l'alberino Scrive beau, beau, bleu, blu, blu, che si ha il senso di blu, blu, perché merci beaucoup, blu, blu, vabbè, sono interessanti anche quelli, sono abbastanza fashion, però dietro c'è qualcosina, dai, come me, fashion, cosa facciamo, prendiamo il caffè? Certo, buonasera, sera, caffè? Sì, grazie, e tre bicchiorini d'acqua, subito, una pastina da ma, ma, pago io, eh, bravo, c'è una limonetta, bravo Piero, capricciosa, pomodoro, lattuga, maionese, beccata, qual è? Apriti, sesamo, buonasera, allora ragazzi, eccoci qua dentro la baracchetta degli orologi, con il simpatico Giacomo, che è titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, adesso andiamo a vedere gli orologi, ma io ho già visto che c'è una marea, una marea degli orologi, mi passa anche la voglia adesso, però Citizen è un mare veramente vasto di orologi, di modelli, e ci sono anche quelli che costano un po' di più del solito, che sono quelli più interessanti, perché sugli altri economici ho messo le mani spesso, su questi qua, un pochino più costosi, no, e quindi noi potremo già iniziare subitaneamente con, come, come devi iniziare? Subitaneamente con i simpatici Citizen, e Citizen sono, va bene dai, questi qua sono tutti Citizen, io, cioè, allora, da dove iniziamo? Siamo perché sono tutti Citizen, allora, vi avevamo preannunciato che avremmo inserito alcune marche con un prezzo di listino più basso rispetto a quelle che abbiamo sempre trattato, ovviamente non si poteva non inserire Citizen perché fa parte, ovviamente, a un emblema del loro rogerico, certo, e ovviamente è poi produttrice di tanti calibri che tra l'altro troviamo anche dentro altre marche, e sì che abbiamo fatto questa introduzione, sì che questo è lo start di partenza per Citizen all'interno del nostro negozio, all'interno poi del nostro sito, tra l'altro sono già caricati, le troverete già online, e non l'abbiamo messo gli Eco Drive per accorciare un po', però sono disponibili anche tutti gli Eco Drive. Allora, può mancare qualche variante perché sono veramente, veramente tanti. Tra l'altro abbiamo già fatto una ricerca di mercato per vedere, ovviamente, mediamente a cosa vengono venduti i Citizen, abbiamo visto che c'è una scontistica in percentuale che va per la maggiore che la, diciamo, la nostra concorrenza applica, sì che noi abbiamo preso di riferimento questa scontistica, poi abbiamo visto che qualcuno vi aggiunge un tipo una tessera punti, vi carica su questa tessera altri punti percentuali, perché noi vi daremo una scontistica già compresa di tutti questi vantaggi che offre la nostra concorrenza, così non dovete fare acquisti aggiuntivi, vi comprate il vostro orologio, avete ottenuto il meglio che potevate ottenere, e ciaoone a tutti. Allora, io ho detto gli Eco Drive non ci sono, però i quarti li abbiamo messi, io voglio partire dai quarti così mi levo questa scatola qua che nel mezzo che mi da noi. Va bene, vai, perfetto. Garanzia di 5 anni. E oltretutto sappiamo ovviamente che ci sono dei portaloni che ovviamente vendono questo prodotto con degli sconti molto importanti, ma attenzione perché solo quelli provenienti dall'Italia e comprati a concessionario ufficiale vi offre i 5 anni di garanzia. Se per risparmiare i 2 euro ve le comprate sul portale PEN, non otterrete i 5 anni ma vi beccate solo i 2. Insomma, 3 anni in più su un orologio non sono male. Allora, ragazzi, ecco lì qua. I primi quarti di Citizen, che poi sono quelli iconici, ora io uso questo termine qua iconico perché ci piace tanto, sono gli Aqualand, quelli con il Anadigitale, Anadigitale, ti piace Anadigitale? Praticamente hanno il display con i numeri digitali e il quadrante analogico come al solito e hanno il profondimetro qua di lato, sono veramente iconici, guardate che belli... Ora, io non ne ho mai recensito uno, non ne ho mai posseduto uno, però se dovesse volere un orologio al quarzo, probabilmente uno di questi, e sicuramente questo qua nero è il più simpatico di tutti, quello verde è un pochino sbarazzino, ma quello nero è simpatico. Tra l'altro non è solo un orologio, perché stiamo parlando di un Aqualand, che è l'orologio più usato dai sommozzatori come secondo orologio da portare in immersione. Sapete che i subacquei professionisti hanno comunque sia il computer legato con la frusta, legato alle bombole, però diciamo le buone regole del subacqueo dicono di portare un secondo orologio, ci dovesse essere un'avaria diciamo al computerino da immersione. E l'orologio ovviamente più usato è il Citizen Aqualand, sicché ecco, è anche uno strumento che potrebbe rilevarsi in salva vita. Ora, partendo da questi quartzoni, ci sono poi i classici Pro Master, che sono quelli che a tutti piacciono per forza, io ho avuto quello Full Lume, eccolo qua, qua abbiamo il Full Lume con il cinturino in gomma, non so se si vede il giallo dalla camera, però sì. E poi ci sono le altre versioni che è quella, diciamo Pepsi, con la ghiera blu e rossa, c'è quello nerissimo che è il classico, e c'è quello verde, quello verde qua è in titanio o no? Allora, non me lo ricordo. No, quello lì è sempre in acciaio, poi ci sono le varianti tra l'altro in titanio, esistono, le abbiamo messe qui nella scatola. Attenzione, c'è un intruso, c'è un ecodrive. Ce l'ho messo io. Che ce l'ha messo lui, ce l'ho messo che mi piace. Maledetto, hai messo un ecodrive. Sì, mi piace anche a me, sono d'accordo con Piero, un orologio che per accostamento cromatico mi fa impazzire. E poi di sopra invece abbiamo la line up, e questo qua lo voglio prendere un attimino in mano, come diceva Rocco. Il Citizen Pro Buster Marine, uno di quelli che mi piace tanto è questo qua blu. Ora l'avete visto, ci sono di tutti i colori. Guardali qua Piero, inquadrali, c'è il nero, il senape, il nero gommato, il blu. Che blu è come questo qua che ho preso io? Perché guardate il quadrante come è goffrato, come è ruvido. Questo qua è uno di quelli che ho sempre tenuto in considerazione. La nuova versione del Pro Master, che rispetto a quello vecchio, dicono che abbia anche un bracciale migliore. In effetti poi i finali sono chiusi, sono pieni. Un bracciale migliorato rispetto al modello vecchio. E le caratteristiche poi sono sempre le stesse. Abbiamo il classico calibro della serie 8000, in questo caso quel fermo macchina. Vedi che si è fermato, tac, carica manuale. Sono la versione un po' moderna del Pro Master, che il Pro Master di per sé ha un aspetto diciamo un pochino anni 90, è dal 1996 che lo fanno così, lo stile è sempre questo. Questo qua è quello nuovo che perde la peculiarità di avere la corona ad ore 8, vedete che c'è la ore 3 normalmente, come gli altri orologi, le lancette sono un pochino più standard, gli indici sono più comuni, no? Ha più personalità quello vecchio, però diciamo che come qualità forse è leggermente meglio quello nuovo. Sei sicuro dal 1996? Quale anno? Secondo me prima. O 93 o 96. O 93 o 96. Sai che io ho una memoria di questi orologi qui, quando li trattavo in negozio, ero veramente giovane, perché poi mio padre è stato uno dei primi concessionari citizen addirittura d'Italia, sicché li ha sempre trattati, faccio un tuffo nel passato, io quegli orologi me li ricordo, sicché ora poi andrò a vedere le date precise. Secondo me è un 96, però è una menzioncina particolare per quello color senape, che non è per nulla male. C'è anche color ruggine, che qua adesso non c'è, perché le scatole sono tutte in giro, sicuramente ci sarà. Questo qua è quello giallo-senape, e poi c'è uno color ruggine, marrone, arancione, quasi, veramente bello. I colori più particolari sono questo, il giallo, l'arancione e il blu che ho fatto vedere, poi c'è il nero che è un classico. Sì. Ci qua sono veramente dei belli orologi. Poi tutte le varianti ovviamente gommate, con il cinturino in gomma e... E qua così anche i daiverini della Citizen, il Promaster vecchio e il Promaster nuovo. E poi ci sono... Noi miei, qua c'è da perderci la testa. La serie 8 la lasciamo per ultimo. Vai. Qua abbiamo i Tsuyosa, o... Come si dice? Tsuyosa. Eh, perché l'ho detto io, la ripeto tutta, se no... Tsuyosa, in tutte le versioni possibili, le vedi Piero qua, quasi ci sono. Praticamente, prendiamo uno di quelli che andava per la maggiore, questo qua così gialletto, addirittura appena sono usciti questo qua, andava quasi esaurito, non si trovava mai. Tsuyosa, è il classico orologio da 200, quanto costa? 299 euro di vestino, che poi lo sappiamo, l'amico Giacomo qua, è seduto qua apposta per... Il suo compito è quello di fare gli sconti, basta, non è che... Non sono abituato a trattare orologi come da queste cifre, mi fai troppo poco, mettilo via, troppo poco. 299, quindi è la portata di tutti, è avuto successo, c'è il bello orologio, il vetro zaffero, il calibro della serie 8000, quindi il calibro base di Citizen, da Miota, e c'è in varie colorazioni, C'è quello, ce n'era uno blu che mi faceva impazzire. Tra l'altro è incredibile la qualità, la qualità proprio del prodotto, guarda questo qua blu che è quadrante che ha. Consistenza della cassa. Guarda, è bellissimo. Guarda qua, c'ha gli indici leggermente più virati e il quadrante goffrato blu. Io preferisco sinceramente questa versione qua. Sembra brillantinato. Sì, allora qualche mio cliente, che ovviamente l'ha già acquistato, ovviamente non da me, perché noi partiamo ora, si è lamentato un pochino della coroncina, un po' sottodimensionata, fanno un po' fatica nella fase ovviamente di rimessa, di carica. però ecco, il vantaggio è che posizionata lì, molto piccolina, alla fine non dà neanche fastidio portando l'orologio. Sì, lo so, poi se, io penso che in un prodotto puoi trovare tantissimi pregi e poi se vuoi puoi trovare anche tanti difetti, perché poi sono anche personali, no? Un po' i pregi, i difetti dei prodotti. E poi ci sono gli Zuiosa, quelli nuovissimi che sono usciti da poco, che invece hanno i piccoli secondi ad ore 6 e questi sono particolari. Innanzitutto perché? Perché il calibro della serie 8000 lascia con i secondi indiretti, quindi il suo sbocco naturale è quello di avere i piccoli secondi. Quando li vedete così come questo con i secondi centrali sono riportati al centro tramite un ingranaggio. Invece quando li vedete, prendiamoli uno a caso, questo qua blu, mi piace il blu a me, questo qua blu nuovo corre i piccoli secondi ad ore 6 è lo suo sbocco naturale. I piccoli secondi su un quadrante così del calibro 8000 sono esattamente lo sbocco naturale. Guardate questo quadrante. Secondo me queste Tuyosa con i piccoli secondi sono ancora più originali rispetto a queste qua, ho un'identità maggiore perché i orologi bracciali integrati con i piccoli secondi io non me li ricordo, non me li ho mai visti. Lo preferisco pure i piccoli secondi. Ora, c'è anche da controllare una cosa ragazzi che io, guardate, la differenza di calibro tra questo qua è il calibro 8200 e qualcosa dello Tuyosa. Vedete, la finitura è veramente dorata proprio per nascondere a più non posso per evitare di rifinirlo, lo fai dorato e via. Le viti sono di un certo tipo. Adesso andiamo a prendere quello del nuovo Tuyosa con i piccoli secondi che sarebbe 8300 e qualcosa e vediamo che è veramente veramente più rifinito rispetto a quello dello Tuyosa a modello base. Cioè le viti sono blu. Sì, anche la massa oscillante non è intera, metraforata. Scheletrata con il tungsteno qua giù in fondo fa da contrapeso, c'è anche il perlage, no, il perlage, c'è il code de Genève, eccolo qua. Questo qua è leggermente più pregiunto. Infatti questo qua costa un po' di più, quella costa 2,99 e questo qua costa 3,69. Ora, 70 euro in più sono, la maggior parte sono dovute al calibro che è più rifinito. Sì. Però anche il quadrante è veramente, questo qua è piano, è semplice, è piano, lucido. Questo qua è anche più lavorato. Guardate che lavorazione. Sembra addirittura Ghiglioche. Sì. Adesso ne prendo di un altro colore, che colore posso prendere? Questo qua, questo qua. Sì, è molto bello, molto particolare. Eccolo qua, guardate questo. E c'hanno anche la lancetta dei piccoli secondi in tono con il quadrante, se è blu o se è beige. Belli questi nuovi Tuyosa, ci piacciono tanto. Sì, veramente belli. Riesco ora a vedere dal vivo tutta la collezione che fanno, è veramente incredibile. E se il prezzo di listino a cui vengono venduti, stai. e poi c'è un altro modello che è appena uscito, che non è il City Senzu Yusa, ma ne riprende un pochino l'aspetto, e non ha un nome proprio di persona, va per referenza. Sì, fa parte della linea Titanio, se guardate sul sito, che tra l'altro trovo che sia anche poco scorrevole, perché non divide per famiglie, ma divide, mescola le famiglie con le tipologie dell'orologio, sicché poi alla fine lo stesso orologio lo trovate per tipologie e per famiglia. Ed eccolo qua, guardate che bellini questi qua, questi qua sono in super titanio, che è il super titanio di Citizen, è famoso per essere il grado 5, quello un pochino più resistente, e come vedete ha i piccoli secondi ma disassati, anche in questo caso il calibro è sempre quello della serie 8000, quindi fa il suo dovere avendoli disassati in questo modo, e rispetto allo Tsui Yusa leggerissimamente la cassa è differente, anzi, facciamo un confronto con lo Tsui Yusa piccoli secondi che è quello più quello blu, a destra lo Tsui Yusa piccoli secondi e a sinistra questo Citizen NJ bla 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 oddio, a livello di bracciale integrato si potrebbero anche assomigliare, però la cassa qua è completamente tutta in titanio, ha una lunetta più imponente, più segmentata, e poi c'è soprattutto i piccoli secondi spostati tra ore 4 e ore 5. La versione in titanio ha la maglia un po' più schiacciata e l'altra un pochino più bombata come tipologia di bracciale, però ecco. E la finitura del calibro di questo qua è la stessa dello Tsui Yusa, ecco lì dorato, così, quindi praticamente dello Tsui Yusa base, perché quello con i piccoli secondi ce l'ha più rifinito, ecco lì, sempre classico, calibro 8000, in questo caso però la corona qua è ben manovrabile, ecco l'ora 3 classicamente rispetto a essere incassata come gli altri, ci piace questo qua titanio, ma seriotomia, guarda che le... Prezzo? Spoiler, c'è il prezzo, sì, a casa lo vedono, 429, sì, ovviamente c'è l'upgrade del titanio che ovviamente porta un pochino più alto il prezzo, vantaggio, peso dimezzato, finitura un pochino più sportiva, perché ha questa finitura un pochino più brunita, perché il titanio ha questa colorazione, sì, ma in questo caso il titanio l'hanno spazzolato anche bene, sembra quasi acciaio, guarda qui, sì, tanta roba, bravi, bello qua, quindi con questi simpatici zuiose, tutta la famiglia simile, qua abbiamo diciamo... Sì, poi per chi vuole invece uscire dal discorso meccanica e avere una forma simile, però, ovviamente... Allora, c'è la seconda volta che li imbrogliano, questo qua è un altro eco drive, sì, che ha la stessa forma praticamente... E il titanio è anche questo? Sì, il titanio è anche questo, praticamente ha la stessa forma di quello con i piccoli secondi disassati, ma è eco drive, perché vuole qualcosa di più... Spieghiamo che cos'è un eco drive, è una tecnologia che ormai Citizen sviluppa da tantissimi anni, praticamente all'interno del quadrante c'è un pannello solare, grande quadrante, sì, che con la luce o naturale o artificiale ricarica un condensatore, sì, e addirittura con esposizione alla luce naturale per qualche ora si arriva anche a quasi anni di riserva di carica. E senza batteria, perché la batteria è tua nemica, quindi non c'è una batteria, capito? No, effettivamente una batteria ce l'ha, perché c'è un condensatore, un accumulatore, che è una batteria ricaricabile, l'accumulatore lo promuovo, la batteria la voce, diciamo la verità, allora, ce l'ha regalato lui, però fermi tutti, ora voglio capire, perché una la boia, così è una curiosità mia personale. No, è una battuta. Ah, ok. Poi, ovviamente, se vogliamo far vedere un ultimo orologino un po' storico. questo qua perché è bello, ci piace perché a Piero gli piace questo qua, il bullhead. Eh sì, è bello questo, mamma mia. Perché si chiama bullhead? Perché c'è le corna, ci sono le corna. Cosa vuol dire bullhead? Bullhead, toro. Head, testa, toro, testa, 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 toro, corna. Corna, ah, niente, dai ragazzi, così. Bello, come il mio regalo, che mi vuoi fare adesso? Certo, sì, sì, le corna ti faccio. No, no. Dai, è simpatico, questo qua, quello del osso. Ma manca un pezzettino lì, ma qua manca qualcosa. Questo qua, no, questo qua è un pulsantino per regolare qualcosa di tutte queste cose che ha, vedi quante cose, c'è anche un pulsante qua sotto, è un eco drive, ci vorrà, sì, ci vorrà il libretto delle istruzioni veramente. Quanto costa che mi piace veramente tanto? Vabbè di che c'è un on-off qua, io non so cosa sia. Eh sì, ora è on, lo farò puoi spegnere. La sveglia. Ah, c'è anche la sveglia. Oh no? Eh, un po' d'ass. No. Quanto costa? Oh signore, tre qualcosa, quanto costa? No, volte 90. Le prime due, no? No. No. Ma guarda se tirate un indietro. Bello. Però è bello. Per i due. Oh vabbè, poi passiamo a quelli veramente di grado A, come si suol dire. La. Allora ragazzi, vi faccio vedere una panoramichetta. Come si chiama la serie? Serie 8. E qua voglio dire, non capiscono una minchia quelli di Citizen, perché mi fanno la serie 8 con dentro il calibro della serie 9, capito? E poi dopo vedremo come sono ancora più, eccola, faccio una panoramichina, perché sono veramente. Sì, perché verrebbe scontato pensare che serie 8 monta il calibro 8000. Non è così. Montano tutti i calibri della serie 9000, che è quella più pregiata di Citizen, di Miota. E qua c'è da dire qualche parentesina veramente particolare. Ne prendiamo uno a caso. Ne prendiamo questo qua. Ecco, questo qua, ora vi spiego una cosina simpatica su questo. Questo qua è più costoso. Questo qua è più costoso. Quanto costa? 1290, che chiaramente andiamo sotto i 1000 poi, vero? Sì, ora cominciamo a essere in queste fasce prezzo più interessanti. Questo qua, boh, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Guardate qua che che quadrante che ha. Questo qua, praticamente questo quadrante qua vuole riprendere la Skyline di Tokyo, eh? Ora detta così, io non ce la vedo, però loro dicono, quindi siamo tutti contenti. E c'è questa particolare lavorazione sulla lunetta, che va a riprendere a ore 3 e ore 9. Lo vedete? È simpatica. Questo qua è un 100 metri di impermeabilità, se non mi sbaglio. 100 metri di impermeabilità. E incassa il calibro della serie 9000, che però non inizia per 9000. No. No. Ok. Si chiama 0950, quindi inizia con lo 0. 0, 9, 50. Ed è il più pregiato di quelli della serie 9000, che non viene utilizzato quasi mai. 0, 9, 50. Perché ad esempio questo qua incassa il calibro della serie 9000. Quanto costa? Te lo dico subito, 10,090. Perché questa è una tiratura limitata. Ha preso subito la tiratura limitata. Sì, questo lo facciamo vedere, se lo vuoi far vedere, visto che l'è in mano. è una tiratura limitata, questo quadrante è un po' particolare, color ruggine. Ah, questo qua è 200 metri. Questo qua c'è la bag... Eccolo qua. Questo qua costa di più, perché c'è la bag interna, è un diver 200 metri, diciamo diver. Con questa corona qua, ad ore, vedete che gira la bag interna? Eccolo qua. Ma questo qua incassa il calibro 9051. 9051. Questo qua invece è il calibro 0,9. C'è lo 0 davanti. Capito? Ok. Ed è più pregiato, perché il calibro 0,950 ha come, una riserva di carica maggiore, ha come precisione meno 5 più 10. Cioè, se voi pensate che il cosco è meno 4 più 6, lui sta a meno 5 più 10. Mentre questo qua sta a meno 10 più 20, il doppio. Ok. Meno 10 più 20. E non sono da confondere con i calibri 9.015 che utilizzano molti microbrand che loro vanno a meno 10 più 30. Ok. Cioè, i calibri che utilizzano la serie 8 sono più pregiati dei soliti 9.000 che ci sono in giro. Ok. Soprattutto questo qua che è lo 0,950. Fanno un check maggiore in produzione. Ho cercato di capire dove è la differenza e sicuramente sta lì. Secondo me è anche possibile portarlo ancora meglio di meno 5 più 10 perché visto che non c'è nessuna certificazione, capito? Lo controllano loro e nasce così. Quindi questo qua 0,950 è il più pregiato. Poi c'è il 9.051 che è più pregiato degli altri ma meno di questo. E poi ci sono quelli GMT che hanno invece il calibro 90-54. È il calibro GMT di Miota che è differente, cioè è differente, è uguale al 90-75 che incassano i modelli base quelli di minore pregio però è più pregiato rispetto al 90-75. Tra l'altro esteticamente sono molto belli. Io non amo particolarmente la funzione GMT però sinceramente gli orologi sono veramente interessanti a livello estetico. Ma a livello estetico è anche a livello di finiture perché ci abbiamo delle... Guarda qua. E come vedete sotto il calibro 90-54 è anche più rifinito rispetto ai calibri 9000 che si utilizzano di solito. Insomma la morale è che Citizen nella sua serie 8 utilizza i calibri della serie 9000 però di livello più alto rispetto ai soliti 9000. Poi vedremo anche dopo ci sono altri orologi come il calibro 9000 915 che è quello base, standard che è pur sempre premium ma belli questa serie 8. Mi manca quello da blu. Ecco quello da blu non ho ancora guardato. Fammi un po' vedere fai qualcosa di utile nella vita? Grazie. Ecco questo qua è il diver come quello prima che era in edizione limitata e infatti costa 9,90 vedi che costa un po' meno di quello di... Sì 9,90 molto probabilmente era dovuto alla tiratura. Guarda qua eccolo qua c'è la bag interna dove ci sono i primi 15 minuti lo vedi un diver in questa qua regoli il lasso di tempo poi c'è la sua bella cronavite 200 metri di impermeabilità e calibro 90-51 bello 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 però tutti i citizen io non vedo perlomeno su questi qua che abbiamo guardato ma io vorrei vorrei aprire una parentesi vedo ogni tanto guardando sui social arrivano un po' no? presentazioni di ogni genere e tanti ovviamente anche youtuber di settore fanno vedere cineserie varie orologi a basso costo e io volevo dire ci sono delle marche ormai storicizzate che propongono degli orologi veramente per tutte le tasche tra l'altro con una capacità con un'assistenza una capacità di produzione incredibile perché doversi andare a imbrescare se posso usare una parola strana nell'acquisto di un orologio che tra l'altro deve arrivare dall'Asia e non sai se hai un problema da bar impacchettato rimandato all'altra parte del mondo e se hai bisogno di un'assistenza non esiste niente magari per risparmiare poche decine di euro sì ma non so cioè non mi capacito cioè non capisco neanche sì va bene dici abbiamo un brand nuovo una forma un po' differente di casse e però con poi tutti i rischi annessi e connessi che spesso e volentieri queste aziende qui non arrivano neanche a trasformarsi in brand perché muoiono prima vengono ricambiate si danno altri prodotti capace oggi producono orologi domani producono t-shirt c'è tanta gente che si diverte così che è contenta con queste coppie di orologi che costano 100 quando con 200 euro giù di lì ti puoi prendere dei citizen bellissimi ottimi con il loro carattere oppure anche dei seiko come tra l'altro abbiamo visto dei laco nella puntata precedente degli zeppeling che c'è sono orologi tra l'altro ben fatti con un marchio che ormai sta lavorando da tanti anni ma ti vanno i nuovi seiko 5 allora sì tanto per rimanere sempre in tema giappone giappone sì queste qui sono delle novità queste qui sono due 6x5 un pochino più strutturati come orologi rispetto alle precedenti versioni tra l'altro con una lunetta penso che abbiano il vetro in zaffero questi qui eh sì lo vedo lo vedo hanno la copertura sopra non è ceramica però sono un pochino più rifiniti ovviamente uno sportivo a tutti gli effetti vedete la dimensione ovviamente questa ghiera un po' sovradimensionata applicata sopra sì che certo che i 6x5 sono passati da essere veramente cheap nel toccarli a essere no infatti si sta leggermente alzando la fascia prezzo però motivata da una qualità la qualità i calibri sono sempre gli stessi più che altro è una qualità una cura nell'involucro che le rende ovviamente più consistenti e a mio parere anche a livello di tatto più gradevoli scusate ma il datario giapponese c'è sempre stato no allora prima per quanto riguarda gli orologi venduti in Europa c'era il francese inglese avevano il doppio datario ora se non mi sbaglio dovrebbero avere inglese e giapponese che tra l'altro trovo molto carino perché abbiamo una lingua internazionale ovviamente riconosciuta e parlata a livello globale che è l'inglese e poi ovviamente abbiamo il giapponese che è la lingua di casa madre la casa produttrice che trovo molto più interessante questo allestimento che il francese che sinceramente ci diceva poco ma io sono d'accordo con te e mi ricordo anche la domanda che ci fece un utente che diceva che l'italiano doveva essere la lingua giustamente sono giapponesi la fanno giapponesi i tedeschi Jungas mi fa l'orologio tedesco e voglio voglio il datario tedesco è più giusto così sulla Jungas c'è la possibilità di scegliere inglese o tedesco qui invece come vedete c'è il doppio giro che c'è già nel solito disco trovate tutte e due le lingue però lo trovo molto più interessante così effettivamente quello che diceva il nostro follower sull'italiano se c'è un francese perché no l'italiano però secondo me era fuori luogo sia l'italiano che il francese lo trovo più idoneo così e questi due Prospex qua? questi qui sono la nuova cassa del 65 quella ah sì però hanno rivisto i colori la misura leggermente più piccolina è un orologio un pochino più portabile rispetto a prima blu e nero classiche colorazioni ovviamente diver però l'orologio è veramente bello ne abbiamo già venduti tanti fortunatamente sono riuscito a bloccarne due per farli vedere a casa 300 metri bellissimo sì ricordiamo che la versione prima era 200 e aveva il datario re 3 aveva il datario re 3 così sicuramente è migliorativo perché almeno non va a spezzare l'indice che a tanti piace a tanti no l'indice c'è non c'è è tronco sì non si vede la data però non la vedo nemmeno quando è a re 3 io sicché non ho un problema che aveva dato e poi abbiamo un Marisol Acroix in bronzo sì in bronzo sì questo qui ovviamente è un Pontos un Pontos Diver era la versione nuova questa è una tiratura che è arrivata ora l'avevano già fatta una versione in bronzo eh me lo ricordo questa ovviamente è un'altra variante con un quadrante nero che a me piace molto un pochino più classica allestita con questo cinturino in cuoio molto vintage questo cinturino in cuoio qua mi ricorda è diverso perché c'era in punture bianche ma quello che abbiamo visto un'altra volta dell'icon bronzo sì ha un allestimento colore ovviamente è sempre lo stesso fatto veramente bene questo gli hanno voluto dare un aspetto un pochino più vintage con le cuscitorine a tacco cassa un pochino più carino ah c'è il fondello chiuso che non è da tutti i giorni poi il classico 42 mm con la ghiera interna girevole che è a vite lo vedete qua sembra un pulsante questo in realtà è 6 vite poi c'è la bagga interna ti piace? bravo poi si riavvita quanto costa? non è un orologio per te Piero a te non ci puoi arrivare mi spiace è gratis non c'è grazie allora lo voglio trovare non mi ricordo il prezzo non abbiamo lo mettiamo sopra in pressione lo mettiamo sopra in pressione simpatico è questo qua consigliato a chi piace il bronzo sì e poi ragazzi attenzione 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 qua c'è un marchio che come si chiama? buble pari l'ho detto meglio di che buble buble pari buble pari è un marchio francese allora guardiamo fanno orologi veramente particolari eh ora bisogna un attimino concentrarsi e dargli a vedere io ve li spiego volentieri qua ci abbiamo tre modelli prendiamo questo qua blu questo qua blu che ci piace di più eccolo qua intanto diciamo è una monocassa cosa vuol dire? con due cioè è una cassa unica non ci sono varianti sì un solo modello e poi dopo allestito con cinturi con questa maglia Milano molto fitta tra l'altro non è una maglia Milano c'è lo sgancio rapido sì c'è lo sgancio rapido e poi possono essere allestiti anche con i suoi cinturini in pelle sempre con l'attacco integrato come questo bracciale molto anni 40 e ovviamente hanno hanno giocato un pochino sul discorso delle sfere perché sono delle sfere rotonde eh per quanto mi riguarda sì sicuramente la lettura del quadrante non è semplicissima no perché ovviamente avere una sfera eh rotonda bisogna un pochino prendere l'abitudine a leggerlo però diciamo che quando analizziamo un orologio si valuta diverse eh diverse tipologie cioè diverse caratteristiche ovviamente in primis noi siamo un pochino più tecnici ci piace analizzare la parte tecnica la meccanica eh però un orologio è fatto anche di estetica sì ovviamente qui hanno voluto giocare su questa parte qui creando questa cassa che tra l'altro è una cassa molto semplice molto classica è anche originale però sì con questo bracciale maglia Milano molto molto sottile e ovviamente hanno voluto giocare hanno voluto creare una particolarità giocando su queste sfere rotondeggianti nel complesso orologio ci è piaciuto vale ovviamente il suo prezzo di listino poi come sapete i nostri follower noi offriamo un prezzo riservato sono 990 euro tra l'altro in cassa un allora il calibro che è qua infatti come tu prima è il Miota serie 9000 è il 9000 15 ok eccolo qua e la particolarità di questi orologi è che insomma la cassa è veramente il disegnato originale guardate qua come è scavata cioè non è una cassa di quelle standard di fornitura che prendi assembli e fai l'orologio ci hanno pensato un pochino a farla e poi di buono c'ha che è anche impermeabile 50 metri insomma che non è tantissimo ma è un minimo eccolo qua come si legge l'orario praticamente la sfera azzura che sta girando è quella dei secondi continui vedete che gira e l'orario poi invece si legge tramite la piccola sfera che in questo caso sono veramente sfere perché quella piccola segna le ore in questo momento sono quindi le 2 e 25 eccolo qua così sono le 2 e 25 è simpatico come rollo cioè è un design particolare sì l'unica variante che esiste l'ho trovata online sul nostro sito è la versione che ha i secondi che ruotano non lavorando sull'asse centrale sono un pochino fantasma praticamente sì sono i secondi fantasma sembra che siano sospesi sul quadrante invece è un discorso tecnico attenzione che quel caso lì non è più il Miota 9000 ma è il è un calibro france e boucher france e boucher aumenta un pochino il prezzo perché costa circa quelle 300 euro in più e poi ho visto che c'è anche una versione GMT di queste orologie sì che però ora ve lo dico ve lo dico qua così su due piedi qua non c'è ma non è veramente GMT nel senso che c'è sempre un calibro 9000-15 della Miota e ha una seconda sfera nascosta qua praticamente ruotando la corona la corona ore 9 ruotandola c'è una bag interna che gira e ti va a segnare il secondo fuso quindi non è un calibro GMT però è doppio tempo però se considerate ovviamente la lavorazione estetica il calibro che monta se vedete anche Citizen nel prodotto eppure è un calibro che producono loro all'incirca i prezzi si allineano a questi qui montando quel tipo di calibro sicché ovviamente è pienamente centrato a livello di prezzo sì sicuramente è anche indicativo della casa perché se volevano fare qualcosa di economico da vendere ci mettevano dentro un NH35 un Miota 8000 ci hanno messo 9000 che costa di più quindi sono andati anche a fare un nuovo di ricerca oltre che di design anche di tecnologia poi c'è quel calibro francese lì Franze Boucher che bisognerebbe studiare un pochino perché io conoscevo una volta Franze Boucher ma adesso non so più cosa fa cosa non fa Barbara Boucher Barbara Boucher che con questa chiusura di Piero qua adesso possiamo anche andare dove andiamo? andiamo a vedere qualche orologio in giro? sì dai cosa vuoi vedere? Rolex vuoi vedere? ah qualcosa di usato vediamo qualcosa di usato bravo bravo Piero allora dai andiamo a vedere qualche orologio usato no Piero cosa dici? lì non c'è niente di usato è tutto nuovo però guardavo se ci fosse qualcosa di interessante interessante qua dentro non c'è mai niente ci sono io ah beh oh gli usatelli allora questo qua l'ho recensito io è già tornato indietro uno di questi? sì è tornato indietro questo Tissot Sideral con la cassa in carbonio è nuovo di pacca è molto probabilmente un acquisto compulsivo questo qua l'ho recensito l'ho trovato anche tranquillamente nel mio canale praticamente è una cassa in fibra di carbonio composito con un nucleo in acciaio con il classico calibro powermatico 80 impermeabile a non mi ricordo quanti metri e diciamo che è un orologio visto che siamo in entrata di stagione perfetto perché è un orologio sportivo è un orologio che si può andare nell'acqua è colorato sicché secondo me ha tutti i requisiti per essere un buon orologio tra l'altro ha un requisito in più rispetto a quelli che trovate sul nostro sito abitualmente il prezzo perché è un usato ha tutti gli effetti è un secondo polso però risparmiate qualche spicciolo poi un Seiko veramente interessante sì questo è un King Seiko versione usata tiratura limitata va via subito sì perché tra l'altro questo qui è una versione di qualche anno fa perché poi l'hanno replicato successivamente con le lancette dorate gli indici dorati che tra l'altro io ce l'ho ancora nuovo che per chi lo volesse nuovo la versione successiva io ce l'ho ancora imballato questo è un usato tra l'altro tenuto perfettamente con tanto di scatola garanzia tutto quello che serve tra l'altro questi qui hanno la scatolina in radica bellissima questa roba è roba chic sì quello lì è un orologio veramente me l'avete chiesto in tantissimi purtroppo erano esauriti questo è usato quanto nuovo quanto viene quello lì è un orologio che va a 2000 quasi se non sbaglio 700 800 euro sì 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 cinturino morbidissimo là guardate qua perfetto anzi penso di più penso che vada a 2.9 addirittura sì sì un orologio giusto di dimensioni veramente bello è una faccia triste è veramente bello soprattutto queste guardate lo muovi così come lucidano le ansie guardate sì sì è fatta apposta no? è certo una lucidatura particolare mamma mia tra l'altro questa è una versione che arriva direttamente dal paese di origine perché è stata acquistata in Giappone ah sì in un viaggio e poi qui si aveva dato un Rolexino quindi la gente continua a darti indietro ai Rolex sì 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 e Rolex in questo momento ogni tanto qualcuno lo vediamo apparire questo qua è quello da 36 mm quello a catargo adesso devo dire che il cliente che aveva questo orologio l'ha tenuto benissimo e ha fatto a mio parere un bel upgrade di qualitativo perché ha cambiato Rolex per un orologio molto più importante però ecco comunque sì l'orologio è un classico nuovissimo della coroncina come al solito io il 36 mm non riesco a occupare no allora l'orologio ha le magliettine da rimettere che non sono state tolte sicché magari poi ha tutta la micro regolazione chiusa sì che ecco facciamo l'easy link oh ora sì oh oh la tronchiamo subito il mignolo bello però dai il Rolexino faccio vedere io che ho una mania più snella della tua vedi tipo scenerenta o Giacomo che mette l'orologio là non vi abituate le bolle le bolle eccolo qui polso a 19 come vedete l'orologio è abbastanza piccolo se non erro è un 36 36 non sembra neanche sembra più grosso io ce l'ho da 39 perché io c'è tutto grosso non era il connello che ti piaceva le cose piccole no no mi piace la roba grosso ah ok va bene è veramente bello è simpatico sì ti ho tenuto benissimo sì infatti anche qua sulla classe perché di solito dove si appoggiano dove si appoggiano il polso sì è nuova sì è nuova sì va bene tre orologini simpatici che però io devo dire la verità prima ho vinto il King Seiko abbiamo sempre qualcosa anche della della mandata precedente tanti sono stati venduti qualcosa abbiamo ancora e non riusciamo ancora a caricarli sul sito chiediamo scuso a tutti i follower a casa ma è un lavoro siamo siamo ancora impegnati a caricare tutto il nuovo perché come avete visto abbiamo marche nuove che sono state caricate da zero sono state caricate l'aco tutto citizen che è un mare di prodotto buble se non andavi una settimana in Sicilia avresti avuto più tempo non lo dire così è valsa la pena gente fantastica ci siamo insaccati di cibo e poi stiamo caricando Zeppelin e poi e poi dopo sta arrivando delle altre novità stiamo già caricando ma come ve le faremo non li svelare tutto non li svelare tutto non lo ha detto come tu non lo dici ma è a me allora guarda sono degli orologi prezzo prodotto è un marchio che ho già presente in negozio ovviamente c'è un upgrade di prodotto delle novità la casa madre ha deciso di abbassarle leggermente di prezzo e la cosa non guasta perché abbiamo passato il periodo degli aumenti scriteriati e ora tante case ovviamente si stanno riposizionando con un prezzo più accessibile questo io penso che faccia bene al mondo dell'orogeria faccia bene a voi a casa che avete la passione che insomma va bene piano dammi la mia macchinetta oh ecco di qua ci sono anche i due sciammannati qua dietro ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua questa volta piano ti vedo perché ce l'ho a mettere neanche a fare lo specchio e vi ringrazio quindi e vi ricordo gli appuntamenti fizzi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube la amo grazie a tutti Grazie a tutti.